E' stato un anno interessante ed impegnativo, abbiamo tentato di fare questa nuova esperienza insieme all'ILT. E' un'esperienza iniziale, quindi ci stiamo conoscendo. Siamo soddisfatti, onorati e grati di poter essere un'azienda che cerca di sviluppare dei progetti per noi strategici e spero per l'ILT altrettanto importanti. Abbiamo sviluppato un progetto semplice, per noi però con l'obiettivo di avere un orizzonte strategico abbastanza lungo. Abbiamo sviluppato i prodotti che vengono definiti biscotti e prodotti da forno della salute. Sono prodotti che sulla base di orientamenti e indicazioni dei volti nutrizionisti dovrebbero consentire di migliorare gli standard di salute dei consumatori che usano questi prodotti attraverso l'uso di ingredienti e nutri ingredienti particolarmente favorevoli dal punto di vista della prevenzione del tumore. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad accompagnare l'ILT nelle varie manifestazioni e nei percorsi di vendita di questi prodotti sul territorio e se riusciamo a dare una dimensione dal punto di vista commerciale a questa linea della salute oltre a quelli che sono i confini del territorio. Questo progetto dovrebbe avere, vedere luce dal punto di vista distributivo, ci auguriamo nel corso del 2016. Per trovarci qua, speriamo l'anno prossimo con un risultato migliore. Grazie a tutti!